Salve a tutti, bentornati su No Mamamazzo. Parliamo di Frozen 2, il segreto di Arendelle, che è uscito in questi giorni al cinema, ospite per l'occasione Isabella di Feste Bimbi. Ciao a tutti! Poi vi mettiamo il link in descrizione di cosa si tratta. Potreste intuire che si tratta di Feste Bimbi, però poi magari sotto andate a cercarla. Frozen 2, il segreto di Arendelle. Lo ripeto perché nella mia testa è il Regno di Ghiaccio, che invece è il primo di qualche anno fa, passate un po' di tempo dal primo. Ci è piaciuto? Domani di riserva? Allora, lei ha chiesto a dei bambini, dei ragazzini che sono usciti, i bambini lo hanno apprezzato, lo hanno adorato, cioè comunque è piaciuto. Ci sono anche commossi. Hanno pianto tanto! Portateceli i bambini perché ai bambini piacerà. Ai grandi, se seguono la storia, potrebbero trovare un po' di... Diciamo che ci sono un po' di problematiche. Sì. Perché... Sì, devi viverlo, devi continuare a viverlo e devi continuare a sentire queste canzoni che ti pervadono nella mente e che quindi ti mantengono in uno stato un po' di fantasia, non fantasia, ci capiamo, non ci capiamo, ma va bene, andiamo avanti lo stesso. Sfruttano un po' il discorso musical per spiegare il proseguo della trama che probabilmente se non ci fossero state le canzoni sarebbe stato molto più lungo arrivarci, tant'è che loro la risolvono con una canzone e comunque non è chiaro. Con più di una. Perché in realtà le canzoni, se prima erano cinque più o meno le canzoni... Abbiamo controllato. Abbiamo controllato, sono otto, otto canzoncine, una migliore dell'altra, ce ne sono alcune veramente intense. Non sono tante di più, sono solo tre canzoni in più, ma le sbattono dentro in un modo... Ad ogni momento necessario, dove tu non stai capendo c'è la canzone. Che sembra proprio il Jesus Christ Superstar, che è tutto cantato, che proprio dopo una canzone ce n'è un'altra, è quello che un po' spiazza perché... Ci lascia un po' perplessi, però... Sappiamo che la Disney fa canzoni, però c'è un po' di discrepanza tra il primo e il secondo. Esatto. Ce ne sono di belle. Molto. Appunto, parliamo subito di canzoni. Io prima parlerei anche del fatto che comunque le location, diciamo che tutta la trama della storia è posta in un luogo magico, come un... Arendelle, va bene. Paese di Arendelle, bellissimo, del fiordo. Come ogni fantasy c'è una mappa che però qua... C'è il fiordo con Arendelle e fino all'interno di Abyss. Allora, Arendelle si sa che è a nord. Più a nord ancora... A nord ancora 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 ancora. Di Arendelle c'è una foresta. Incantata. Che è incantata perché in passato è successo qualcosa. Non è che non sto spoilerando, è che proprio non ho capito. No, sto scherzando. Ho capito ma è lunga. Quindi c'è stato un incantesimo nel passato, lo fanno vedere in un mini flashback all'inizio. E questo incantesimo è, diciamo, il pretesto per far andare avanti, diciamo, un po' la storia, eccetera. Più a nord ancora di questa foresta... C'è un fiume, un mare, ci capisci? Si chiama con un nome... Altol... 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 L'abbiamo segnato per sicurezza, perché non era sicuro. C'è Pierinic. E è ancora più là, quindi noi non sappiamo bene... Ok. Oltre, oltre dove siamo. Quindi sembra molto lontano. No, addirittura... E qua inizio a spoilerare... Non inizio a spoilerare, ma è successo nel primo. Addirittura pare che i genitori di Elsa e Anna, che nel primo si vede che sono morti in mare, non sono morti nei mari del sud, ma sono morti cercando di raggiungere questo fiume. Magico, dove ci saranno tutti i cinque elementi, che sono il continuo della storia. L'unica cosa fondamentale che abbiamo capito, cinque elementi. Ci sono questi cinque elementi, sono preponderanti nel film, anche se anche lì, a un certo punto, ci sono questi elementi. Che poi sopriremo. Ci sono gli elementi, ma perché? Perché ci sono? Quando l'han detto che... Perché comunque ci sono i sassi, c'è il vento che ti gironzola, c'è l'acqua, ci sono bellissime cose. Non ci sono gli unicorni, ve lo dico. Però ci sono dei cavalli di ghiaccio, lo vedete anche nel trailer. Però l'unicorno non c'è, però donateci. Però potete prendere sempre la carota di Olaf... E metterla sull'unicorno! E metterla sul cavallo! Esatto, esatto, si può sempre fare. Quindi, sicuramente, quindi problematiche, troppe canzoni, un po' una geografia strana. Sicuramente il fatto che noi non abbiamo... Prama un po'. Sì, esatto, ho capito bene tutto il percorso. Un po' confusa. Poi per il resto ci sono delle cose di gran valore. Sì, allora... Cioè, abbiamo trovato dei personaggi, o meglio, un personaggio. Nostro amato. Olaf. Olaf. Olaf è sempre Olaf, però... È cresciuto. È cresciuto, è più saggio, capisce che... Lui si sente più saggio. È cresciuto, si sente più saggio, capisce che quando crescerà ancora di più sarà onnisciente. Lo dice proprio a testuali parole all'inizio. Sì, lui è convinto che quando diventerà più grande capirà tutte le cose. Però probabilmente, non lo so, sta attraversando l'adolescenza, perché è un nichilista. È proprio nichilista in questo film, cioè, è proprio... No, ma cosa ne pensi della faccenda? Sì, è un po' sofferente la faccenda. Dell'entropia che ci porterà alla distruzione totale, cioè così... Ma anche la fantastica fa di questa situazione di pericolo mortale. Di pericolo mortale costante. Diventerà la normalità. Esatto, gli manca il ciuffo emo. Sì, e potrebbe essere apposta la faccenda. E poi è così. Quindi abbiamo un ciuffo emo qua, noi. Però... No, però nel suo essere leggermente cambiato rispetto al primo è sempre Olaf, è sempre divertente da vedere. È sempre comunque caratteristico, molto dolce, molto affetto. È sempre una garanzia. Viva Olaf, è la canzone di Olaf, ci piace, ci piace, ci piace. Canta anche lui, cantano tutti, canta anche la Renna a un certo punto, non sto scherzando, canta anche Sven. È vero. Però bello. Quando canta Sven, poi ci arriviamo, poi ci arriviamo. Un momento importantissimo. Un momento molto importante che io chiamerò momento Beehive. Sì, vabbè. Comunque l'amore vince su tutto, è fattiato, è sempre comunque. Allora, esatto, il tema del primo film era un po' anche... Il fratello e sorella. Il fratello e sorella. Il fratello e sorella, il scoprire di avere un potere, una diversità anche perché no. Unici, essere unici. Accettarla, lasciarla andare perché il titolo originale della canzone è Lady Go, quindi non nascondersi ma essere se stessi. Nel secondo, scusa, nel secondo il tema cambia totalmente perché non si parla proprio del bel passato, di questo mistero del passato, flashback. Le origini che ti cambiano, non ti cambiano. Adesso iniziamo a spoilerare perché basta. Ok, contro tre, due, uno. Si scopre che appunto c'è stato un patto tra gli arendelliani o gli arendelliesi, non lo so. E gli abitanti della foresta. E gli abitanti di questa foresta che sono una specie di nativi americani, si può dire sono vestiti così, sono vestiti come degli indiani, più o meno. Io non lo sono convinta. Sembrano un po' gli indiani, gli eschimesi, ecco scusate, gli eschimesi. Sembrano un po' degli eschimesi. E si scopre che la mamma di Elsa è di quella tribù e si è poi sposata col re di Arendelle. Però il nonno, il papà del papà, non è così buono come sembra. Esatto, c'è un po' questa cosa che il nonno è un po' un boomer, che va tanto di moda dire boomer. Cioè era proprio il classico, no, paura perché loro usano la magia e quindi io metto un muro tra il Messico e gli Stati Uniti. Ah no, scusate, è un altro nonno. No, è un altro più recente, però non c'è perla. Però diciamo che c'è un po' questa strizzatina d'occhio americana, questa cosa qua, del fatto che il nemico non è per forza il nemico, ma il nemico ce l'ha in casa ed è quello che ha paura del diverso. E quindi ti devo mettere un muro. C'è un po' questo tema che non è nuovo nei film Disney, non è nuovo in generale. Io ricordo Iron Man del 2008, che già c'era questa cosa che sembrava che c'erano i dieci anelli che erano tipo gli estremisti islamici, invece poi c'era il suo collega della Stark Industries che voleva vendere le armi ed era lui il cattivo. Quindi è un tema non nuovo, però ci sta. Io magari non avrei usato quello come tema, avrei continuato il tema dell'identità, del potere, della diversità, per dare un filo logico, però vabbè. Ci è piaciuto lo stesso, dai, tutto formato. Chiudiamo un po' questa parte profonda e passiamo le trashate. Cioè, nel senso, ha le parti un po' più superficiali. Ci dica, le cose belle, le cose belle sono innanzitutto i vestiti. I vestiti. Cioè, topposissimi, anche la camicia da notte, color prugna, perché è proprio sull'anno. Sì, no, è vero, è vero, è vero. Bello, tutto bello a partire, a me non sono un po' contro i leggings di Elsa. All'inizio si vedono tanti piedi nudi, pensavo allo stesso dirigendo Quentin Tarantino. E invece no. E invece no. Poi a un certo punto mettono tutti le ballerine. Esatto. E i stacchettini anche leggeri. I stacchettini, mamma mia. Però diventano anche un po' cavallerizze, un po' guerriere, un po' supereroine. Esatto, c'è il momento Marvel. Esatto, Elsa è diventata una supereroina, ancora di più, lei cavalca l'onda. Sì, c'è proprio il momento di, ok, imparo a usare i miei poteri, che si è visto in qualche film di qualche anno fa, anche Spider-Man, quando lancia la ragnatela, si schianta sul muro. C'è un po' questo. E però non si schianta mai, perché lei è Elsa. Perché è in acqua. No, Elsa. È Elsa. È Elsa. Però no, è un momento, anche lì, bello. Te lo dici, ma che è? Ma che sto guardando, un film dei supereroi? Però si sa. Sembra che Elsa sia diventata Wonder Woman, in un attimo. È un po', sì, è un po' il trend del momento, scavalcano l'onda, non si è anche a fare l'opposto, scavalcano l'onda di questa cosa, però vabbè, ci sta. Già nel primo, si capisce, cacchio, è ovvio che è un superpotere il sparare ghiaccio. Sì. Però vabbè. Ci sta. Poi abbiamo scoperto la cosa migliore della giornata, che proprio è la perla conclusiva che tutti dovete portare a casa, secondo me. Ah, sì. Che l'acqua... L'acqua, quindi è ancora una cosa profonda, dovevamo dirla. È veramente meravigliosa. No, no, davvero. L'acqua ha memoria. Lo dice Olaf, che appunto in uno dei suoi sprizi di saggezza, però è fatto di ghiaccio, ci sta. Esatto. Ci sta, che lo sappia. L'acqua ha memoria perché appunto passa ovunque, passa anche tra le persone, come Olaf finemente fa capire. In alcuni riassunti meravigliosi. L'acqua ha memoria, quindi questa cosa poi serve anche alla fine del film per Olaf, per una cosa di Olaf. Ma che però serve un po' a tutti noi, perché comunque sappiamo tutto il ciclo dell'acqua, bambini, qua lo imparerete ancora meglio. Ve lo dico, è proprio un top di gamma. Ha un significato anche quasi spirituale a quest'acqua, qui è molto bello, è anche bello perché comunque tra i vari elementi è quello più vitale, diciamo, l'acqua è vita, anche noi siamo fatti per tre quarti di acqua, quindi anche il pianeta stesso è fatto tre quarti. Oh, siamo in un pianeta. Vabbè. Dettagli, l'altra cosa meravigliosa è sempre di Olaf, perché comunque punti positivi siamo Olaf. Che se per caso vi siete dimenticati come è andato il primo film, Olaf a un certo punto, purtroppo già abbastanza avanti, più o meno a metà, ve lo spiega. Cioè lo spiega agli abitanti della foresta e di rimando lo spiega a noi che guardiamo e lo spiega come solo Olaf sa fare. Ma in un minuto, eh. Cioè, male. È una roba fenomenale di un minuto di, oh mamma, abbiamo riassunto tutto Frozen 1, tutto Frozen 2. Wow. E quindi... Cavoli, Olaf è bravissimo anche a fare le imitazioni, Olaf. È meraviglioso. Molto bravo. Tra l'altro, parentesi doppiaggio italiano, Olaf è Enrico Brignano, anche nel primo film non lo sapevo assolutamente, l'ho scoperto nei promo di questo secondo film, sono andato a vedere se lo faceva anche nel primo, lo facevo anche nel primo. È un doppiaggio VIP con... con i controfiocchi. Bravo. Perché si vede che studia dizione, non si sente l'inflessione romana, è un doppiatore, anche se non è in realtà un doppiatore, è un attore, però si sa, i doppiatori sono attori. Enrico Brignano qui è davvero, davvero bravo. Non che avessi dubbi sulla sua qualità, però tanta roba. Anche perché non usa la sua voce per magari... Cambia tantissimo, non sembra... Gente al cinema... No, è proprio... ha creato... ha ricreato il personaggio. Quindi complimenti Enrico Brignano. Sono andato a vedere lo dal vivo una volta, tra l'altro, molto bravo. Io lo adoro, lo guardo spesso. Sì, sì, sì. Beh, io direi anche il finale della canzone... Abbiamo immaginato, non sappiamo se possiamo dirvelo, ma forse ci sono anche i Negramano. Ah, sì, sì, sì. La canzone... una delle canzoni, perché appunto ce ne sono otto, quindi non sappiamo quale sarà quella che tirerà di più il carretto. Al momento... Io punto Olaf, diventerò grande. Per me quella... Io puntavo... Io puntavo a quella finale di Elsa, perché c'è una... C'è diciamo un'ennesima trasformazione di Elsa, questa volta è alla fine, non è all'inizio. Ma siamo troppo classici. E io puntavo a quella canzone come Life Motive. No, 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 io puntavo a quella. In realtà i Negramaro cantano la prima canzone che canta Elsa, quando anche li prende e se ne va da Arendelle per scoprire questa foresta incantata. E la canta Giuliano dei Negramaro alla fine del film, quindi restate sulle poltrone, così ve la ascoltate. Solo, credo che solo Giuliano dei Negramaro come voce maschile poteva rifare questa canzone. Eh, non avendo sentito gli originali... Adesso proveremo a sentire... Non so, una donna può fare quei vocalizzi lì, un maschio che li fa se non è Giuliano dei Negramaro o forse Mengoni, però Mengoni l'avevano già preso per il Re Leone, quindi... Non potevano ridare gli altri... Non è che possono usare sempre Mengoni. Quindi, beh, insomma... Dato che stiamo parlando di canzoni, la canzone di Christophe è proprio... è il momento, credo, più volutamente trash dove Christophe si trasforma in Mirko dei Beehive e vedi proprio questo video anni Ottanta dove lui canta che Elsa se n'è andata e vedi tipo lui da lontano e lei... e la sua faccia è in primo piano così, no? In... Com'è che si dice in... No, beh, c'è il background... C'è il background così tipo... Disperato, disperato. Ragazzi, questa cosa molto... Disperato. Anni Ottanta, 90, questi video trash, bellissimo da quanto è brutto. Sì, siamo rimasti in malissimo e non vedevamo che... Cioè, anche meno, anche meno. Ecco, lì canta la renna, ve lo dico. Lì canta la renna. C'è anche un momento in cui Christophe e delle renne riproducono Buemia Rhapsody dei Queen a livello visivo, ovviamente non a livello canoro, quindi mannaggia ragazzi, chapeau. Però ci sta, ragazzi. Quindi, niente, canzoni ci sono. Canzoni ci sono, ci sono tantissime. E' una gioia per gli occhi, gli effetti speciali sono la computer grafica, intendo. E' una roba fenomenale. Si vede l'acqua che sembra davvero filmata. Forse il 3D vale. Noi non siamo andati a vedere il 3D. Se andate a vederlo in 3D c'è un momento dove il 3D sicuramente meriterà. Si vede l'acqua sulle rocce che è spettacolare. Si vede la criniera del cavallo di ghiaccio che è ad acqua. È fenomenale. Visivamente ineccepibile. All'orecchio un po' troppe canzoni, ma vabbè, per carità, va bene così. Product placement hanno creato, come hanno fatto nella nuova saga di Star Wars, un personaggio proprio per vendere i pupazzi. Che è delizioso! Esatto, si contenderà con Olaf la pucciosità. Non ha un nome. No, esatto. Non abbiamo scoperto il nome. È una specie di lucertola, camaleonte che... Che da azzurro diventa violetta. Si infiamma, quindi ha dei poteri complementari a Elsa. Sembra anche lì chissà cosa, perché appunto è parte di questi elementi, no? Quando c'è il fuoco sembra che c'è questo incendio viola super... Super dolosi. In realtà è lui. Questo dolcissimo animaletto. Diciamo che tutti gli quattro elementi, il quinto poi vabbè si vede alla fine, tutti i quattro elementi sono ostili e poi Elsa li doma tutti. Mano a mano. Mano a mano. Stiamo analizzando, stiamo quasi trovando un senso. Sì, stiamo trovando tanti sensi che hanno messo, però non li hanno cuciti insieme. Cioè io ti posso trovare mille significati, però è un film, ce ne dovrebbe essere uno, quantomeno, uno principale che... C'è, ma prima che ci si arrivi, ci si arriva un po' così a gratis, perché davvero Elsa sente le voci. Il rumorino, senti le voci, senti le voci. Così, eh? Perché il film parte, perché la trama prende il via, perché Elsa sente le voci. Che non è un amico immaginario. Per quello dico, è una roba un po'... Cioè potevano impegnarsi un filino di più per far partire il tutto. Poi quando il tutto parte, e da metà in poi, quindi ce ne vuole, allora va bene, il film scorre ed è molto bello. È proprio l'incipit iniziale che dici... Ci manca qualcosa. Tutti sti anni ci potevi pensare un po' di più, vabbè, nulla per carità. Ci siamo dimenticati di dire qualcosa, abbiamo detto tutto. No, abbiamo tutto, noi volevamo salutarvi a questo punto e consigliarvi di andare a vedere al cinema Frozen 2. Non l'abbiamo detto all'inizio, quindi lo diciamo adesso, sperando che ci abbiate seguito fino adesso. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, attivate la campanella delle notifiche, condividete il video con tutte le persone che conoscete, che vi stanno simpatiche o meno, che amano Frozen o la Disney o meno. Non ci frega. Condividete che magari poi cambia un'idea. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate, che poi appena ho tempo vi rispondo, anche tu rispondi. Prometto, subito, subito. Va bene, dai, con questo è tutto. Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto come sempre, ci vediamo al prossimo video, tanto nessuno completa mai il mio invito. Arrivedorci. Ciao. Ciao.